Napoli Caldio, il funerale di Claudio Garella, si è svolto questa mattina nella provincia di Torino. Presenti ai compagni della Verona dello Scudetto, Nanu Galderisi, Triccella, Volpati e Fanna e Roman che suonavano con lui a Napoli, ma anche vecchie glorie come il Granata Cereser, Lex Dorian e il suo compagno di squadra Luca Pellegrini, e gli appassionati di calcio che avevano riconosciuto la singolarità a Garella, qualcosa che non è necessariamente entrata nei saluti. Persone in età avanzata, il ragazzo con la sciarpa e la maschera da toro, fotografi in pensione. Persone comuni per un bambino speciale. Accanto al libro dell'azienda, la famiglia decise di mettere un'immagine di lui e della sua luce, con la giacca sulla spalla e quel sorriso molto buono. L'associazione dell'ex giocatore di calcio toro ha portato Gonfalona. La fattoria e i fan del Barracuda con cui Claudio aveva collaborato ha portato i segnali, nulla del Napoli, che anche a Garella deve parte di un memorabile scudetto, nessun figi C, e nessun altro club di A o B. Viene rapidamente dimenticato. E questo ha fatto soffrire molto a Claudio che, sfortunatamente, non si sarebbe aspettato molto di più.